La crisi ha modificato radicalmente le abitudini delle famiglie, secondo una ricerca condotta da federconsumatori su un campione di 2.500 persone. Per due intervistati su tre, il tenore di vita e il potere d'acquisto sono peggiorati e di conseguenza l'80% ha ridotto anche i consumi, nella metà dei casi rinunciando ad alcuni acquisti oppure comprando prodotti di costo inferiore e soprattutto non di marca. Il 72% del campione inoltre preferisce rivolgersi alla grande distribuzione piuttosto che ai negozi tradizionali, oppure si reca direttamente dai produttori. Non decollano gli acquisti su internet, soltanto il 14% ne fa più di 6 all'anno, il 58% non ci ha mai neppure provato. Tre famiglie su quattro hanno diminuito anche le spese per ristoranti e pizzerie, mentre più della metà sta rinunciando a cinema, teatri e libri. Il 12% per mangiare si è rivolto a mense sociale o ad associazioni di volontariato che distribuiscono prodotti alimentari. Una famiglia su tre ha tagliato vacanze e divertimenti. Guardando al futuro il 62% degli intervistati teme un ulteriore peggioramento della situazione economica, il 70% ha intaccato i propri risparmi. Uno su cinque per andare avanti ha chiesto prestiti ai familiari.